Ben trovati al meteo, pressione atmosferica in aumento ci attende una domenica 11 settembre all'insegna del bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto situazione decisamente buona, protagonista sulla nostra regione sarà il sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, in linea di massima non si verificheranno precipitazioni degne di nota. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 11 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in prevalenza poco nuvoloso, non si esclude qualche locale acquazzone pomeridiano sulla zona montana. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime sui 25 e 26 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, splenderà spesso il sole, avremo una maggiore variabilità che permarrà lungo la cresta di confine. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 26 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.